L'incredibile Gatti Francesco Gatti E a uno Un momento E' quello Un momento Un momento Un momento C'è Goal! Goal! This is How to He will lead us away every beat Try to consequences Goal! 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 GOOOOO! 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 GOOOOOO! 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 3-1-0, Hernanes ha fallito il record del 2-0, adesso Totti ha il dischetto, ha fischiato Mazzalini. parte Totti reti Totti 9 gol con il tabasso del vecchio 227 in Serie A anche un modo diverso di calciare un rigore rispetto a Nanes non ha guardato il portiere si è solo preoccupato di tenere la palla vicino all'angolino passo alla destra di Marchetti